Benvenuti sul canale. Sapete con chi era fidanzata Maria De Filippi prima di incontrare Maurizio Costanzo? Lui oggi è un personaggio di grosso calibro. Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono state una delle coppie che è risultata più longeva nel mondo dello spettacolo italiano. I due si sono incontrati nel 1990 e cinque anni dopo sono convolati a nozze nel 2020. Hanno celebrato i 25 anni di matrimonio. Nonostante la loro differenza di età piuttosto importante, Maurizio e Maria non hanno mai vissuto momenti di crisi. E tantomeno nessun gossip malevolo, nessuna indiscrezione spiacevole, ha mai intaccato la loro serenità matrimoniale. Sapete però che Maria De Filippi prima di incontrare Maurizio Costanzo è stata fidanzata con un uomo che oggi è potente e ricchissimo. Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono convolati a nozze nel 1995 dopo ben cinque anni di fidanzamento. Ma la conduttrice di Uomini e Donne è la quarta moglie di Costanzo che prima di lei ha avuto altre tre donne importanti nella sua vita. La presentatrice invece è stata fidanzata solo poche volte. Sapete chi c'era nella sua vita prima di incontrare il famoso giornalista? Si tratta di un tale di nome Paolo, un uomo che oggi è un ricco e potente. L'ex fidanzato di Maria De Filippi è un importante manager di una delle case farmaceutiche più conosciute al mondo. L'uomo che è morto riservato ha rilasciato un'intervista al settimanale Di Più, parlando proprio della sua relazione con la conduttrice Mediaset. Paolo ha raccontato così di un flirt nato nel 1976, quando tutte e due frequentavano il liceo. L'ex fidanzato della conduttrice dice che oggi Maria De Filippi è ben diversa dal passato. Donna sempre seria e professionale in gioventù, era una ragazza fragile ed insicura di sé. Paolo conserva un bel ricordo della conduttrice e oggi si sente di chiederle scusa per il modo in cui ha chiuso la loro relazione. A tal proposito ha dichiarato «All'epoca credo di averla fatta anche un po' soffrire. Infatti fui io a lasciarla e forse fu un errore, la lasciai all'improvviso e lei ci rimase molto male». Ma non protestò, non si mise a piangere, la ritrovai al bar e mi lasciò un biglietto con su scritto che, anche se era stato breve il nostro rapporto, ti ho voluto tanto bene. Da quel momento siamo diventati amici, ma le nostre strade si sono divise. Ora entrambi conducono vite diverse. Paolo è sposato ed ha dei tre figli. Grazie per la visione ed iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante e tu resti sempre aggiornato.